Ciao, benvenuti a Pro Wine China. È già la nostra sesta edizione. Si chiude il sipario sulla sesta edizione della Pro Wine China di Shanghai, dove il mondo del vino si è dato appuntamento per conquistare il mercato cinese. Noi abbiamo messo insieme qualcosa come 750 aziende, numero in crescita del 20% sull'anno scorso. Dando spazio a tutto il mondo produttivo, abbiamo fatto leva su quelli che sono i punti di forza della nostra fiera di Düsseldorf, focalizzandoci sui trader e riunendo così l'intera filiera del vino. In termini di paesi espositori al top si sono confermati Francia, Spagna, Australia ed ovviamente Italia, che hanno accolto in tutto 18.000 visitatori da ogni angolo della Cina ed è proprio questo il nostro obiettivo principale, attrarre professionisti non solo da Shanghai ma da tutto il resto del paese. Un anno fa il 50% degli operatori veniva da fuori Shanghai. Quest'anno la percentuale è salita al 60%. Il mercato cinese del resto sta crescendo in fretta, certo non è facile, è un mercato stimolante in cui bisogna lavorare solo per trovare la giusta strategia, la giusta piattaforma. Come ProWine China si possono acquisire gli strumenti giusti per esplorare il mercato ed avere successo in Cina. Ciò che abbiamo notato come ProWine è che l'educazione del vino e dal contempo la sua comprensione sta diventando sempre più importante ed in voga, come mai prima d'ora era successo. I cinesi hanno fame di corsi sul vino, di vini di qualità e soprattutto hanno la curiosità di scoprire ciò che il mondo del vino ha da offrire ed è esattamente ciò che intendiamo portare qui. Un mix di piattaforme che vanno dall'aspetto enologico al networking, volte a far conoscere sempre di più e sempre meglio il mercato cinese. Per noi, come fiera, è un momento importante perché nel 2019 festeggeremo i 25 anni di ProWine e sarà l'edizione più grande di sempre con Francia ed Italia in prima linea. e siamo arrivati a tutti a presto a presto a presto a presto a presto a presto. E siamo aspettati a volerci a tutti a ProWine in Düsseldorf nel prossimo anno.